Che ti gli ha fatti quei tatuaggi? Mertato, balli, vedi? Ma se ti facessi un po' di tatuaggi come questi, forse saresti meno stronzo. Con te non funziona però, no? Sei stronzo uguale. Ma è vero, sono stronzo uguale, ma perché? E questo è quello che mi chiedo. La famosa domanda manuelica, no? Essere o non essere stronzi? Non esagerare, Simo. Se no finisce che te rimeno. Fa male farseli, eh? Ma dipende da chi te li fa. Il tatu è alcoolizzato, infatti gli trema la mano. Questo me lo so fatto da solo. Bella gente che frequenti, oh. Bella gente sì, ma perché te chi frequenti? Scusa, la regina di Scozia. No, io non frequento nessuno. Ma se vede. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao! Ciao! A posto? Senti un po', ma Lombardi è sempre stato così. Perché pensavo si fosse incantivito con l'età. Lo conosci quel professore? Sì, perché è un nuovo professore di filosofia. Perché me lo chiedi? Niente, curiosità. Grazie.